Sempre anche una partita che punta di turisti, i lunghi passati con Real Madrid, adesso grande assist del Ciaccio, Rodriguez mette palla a terra ma in angolo da Melli, si crea il triangolo per andare dentro la Tarceschi, un anno e mezzo fa, adesso prova a scaldarsi Celenaris della partita, se ci ha scaldato è come il Ciaccio, altro. Adesso rimane assieme a Rodriguez, ciò significa che Melli è libero, trovato ancora perfettamente dal Canario, in attacco ancora per Milano, questa volta con Mitoglu, palla dentro di Rodriguez, ottime le tinte di Melli, poi si chiude un 3 attorno a lui, ma ma in un passo cattivo e schiaccia il canetto del P2. Celen Tarceschi, nel momento tenuta ancora a quota, 0 Cremona in apertura del terzo quarto, e Tarceschi, scarico su Gerian Grant che vuole attaccare Harris, tiene le braccialte per non commettere fallo, e poi Grant trova l'assist per Tarceschi.